Questa iniziativa è nata quasi per caso oramai dieci anni fa da un gruppo di ragazzi che avevano deciso di girare e attraversare tutti e 118 i comuni della provincia di Avellino. In dieci anni è diventata un'iniziativa che è davvero attesa da tantissimi comuni, da comitati, da associazioni, da istituzioni che organizzano anche le festività natalizie e le fanno partire in occasione di questa attività che null'altro vuole che incontrare le persone per accorciare le distanze geografiche e sociali e per essere comunità. attraverso una raccolta solidale e attraverso le iniziative che attivano le persone e che le fanno sentire parte di un'unica comunità. Quando si comincia? Si comincia il 7 dicembre, si finisce il 10, ovviamente attraversiamo tutti e 118 i comuni, ci fermiamo 7 minuti in ciascuna di quelle tappe, ci sarà il momento di spegnere 118 volte le 10 candeline, raccoglieremo alimenti per le famiglie più bisognose della nostra provincia e poi alla fine del nostro giro accenderemo il tradizionale pino irpino che quest'anno sarà all'interno della biblioteca provinciale di Avellino.